Una mostra celebra quelle scarpe famose e imitate in tutto il mondo per i tacchi vertiginosi e la loro inconfondibile suola rossa. Le scarpe di Christian Louboutin, il 57enne parigino, oggi tra i più iconici designer di scarpe. E anche grazie a lui che negli anni 90 e 2000 i tacchi a spillo sono tornati prepotentemente di moda, un marchio di fabbrica che lascia il segno. Il tacco cambia la postura, la silhouette, il disegno del corpo e ti dà allo stesso tempo una certa consapevolezza del tuo corpo. Ecco perché mi piacciono i tacchi, ma mi piacciono anche le scarpe basse. Capisco molto bene che vogliamo, per così dire, libertà diverse e quindi posture diverse. Non vorrei che la gente guardasse le mie scarpe e pensasse quanto sono comode. L'importante per me è che la gente le guardi e pensi quanto sono belle. Christian Louboutin si è fatto da sé e a soli 27 anni ha fondato la sua azienda nel 1991. È una mostra estremamente generosa, direi, spiega il curatore, ed è generosa perché è anche immagine di questo creatore che per 30 anni ha creato qualcosa che parla alla cultura popolare. La parola stessa Louboutin è passata da nome proprio a nome comune. Quando diciamo Louboutin penso che tutti sappiano di cosa si sta parlando. L'esposizione alla quale hanno collaborato tra gli altri anche il regista e fotografo David Lynch, la coreografa spagnola Blancali e l'artista pakistano Imran Qureshi è in mostra al Palais della Porto d'Oré di Parigi fino al 26 luglio.